ciao a tutti oggi voglio parlarvi di un momento speciale l'aperitivo non importa se non è mercoledì ogni giorno è buono per festeggiare e divertirsi la tavola è pronta i calici gialli brillano la musica rallegra l'atmosfera le patatine scrocchiano che aspettate è ora di brindare lo spritz è il protagonista di questo momento di gioia e condivisione un brindisi che unisce tutti e che parte da beatrice con delle parole toccanti e sincere ringraziamo chi vogliamo brindiamo a chiamiamo e a marco che non c'è inizio io a mia madre queste parole dell'attrice sono un invito a riflettere su chi ci sta vicino e a dedicare un pensiero speciale a chi non è con noi in quel momento l'aperitivo è un momento magico in cui si può staccare la spina e godersi la compagnia degli amici o della famiglia è l'occasione perfetta per rilassarsi chiacchierare e ridere insieme e che cosa c'è di meglio di un buon drink come lo spritz per accompagnare questo momento di felicità non importa se siete a casa o in un locale l'importante è creare l'atmosfera giusta per godersi al meglio l'aperitivo preparate degli stuzzichini sfiziosi mettete della buona musica e preparatevi a brindare alla vita alla gioia e all'amicizia e ricordate sempre di ringraziare e apprezzare le persone che sono importanti per voi quindi che aspettate sollevate il vostro calice guardate negli occhi le persone che amate e brindate a tutto ciò che vi rende felici e ricordate ogni giorno è un buon giorno per festeggiare e godersi la vita salute grazie a tutti